Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Arezzo. Sulla A12 un chilometro di coda in direzione Sud alla barriera di Rosignano. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione e restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Sulla regionale 429 Valdelsa per lavori di sicurezza di vieto di transito dal chilometro 12 al chilometro 17. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!